allora qua è tutto circondato in questo modo giusto in realtà nì nel senso che in realtà nì nel senso che qua ci sarebbe la parte del dietro della struttura perché non lo vedo in realtà non la vedo però allora intanto facciamo così io direi che lì secondo me possiamo fare la parte retro della struttura quindi io qua la modificherei farei proprio una roba del genere farei però sapete che secondo me l'ho fatta troppo grande perché facciamo scusa prendiamo un po' di un po' di spruce ok ah fai che la casa è grande così no è già è già troppo grande così la casa secondo me perché qua qua io farei una roba del genere no la farei grande 3 la farei così sì sì qua secondo me ci sta grande 2 però qua per me è troppo larga io qua la farei più corta così vi dirò ma facciamola così poi vediamo tanto ripeto possiamo modificarla infinitamente infinitamente e sempre quindi non è non è non è non è un grave problema mia cosa forse l'abbiamo fatta troppo in avanti perché qua svolazza veramente tanto eh però ah sì ok cioè sì però di una più lunga la voglio ok esatto perché qua poi faccio così vabbè ta 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 ok qua abbiamo la nostra fantastica casetta perfetto qua facciamo così ta 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 esatto sì molto molto anche se in realtà potrei farla anche di uno più lunga ancora eh perché qua un passaggio da due per me ci sta è che sì però si potrebbe fare però devo spostarmi indietro perché sennò se vado troppo avanti è veramente troppo svolazzante la struttura ma potrei anche farla grande così però la casa potrei fare una casetta molto piccola in realtà che secondo me ci può anche stare facciamo una casetta molto piccola ok e qua semplicemente quello che andiamo a fare è sta cosa e ok ecco facciamo così tipo al centro la facciamo no facciamo la storta facciamola facciamola verso di qua esatto facciamo una roba del genere ops facciamo una disallineata allora qua facciamo così ok ok qua facciamo semplicemente così è molto ripeto molto facile come struttura ma secondo me secondo me era carina quindi per quello volevo farla ok ok qua si fa la casetta normale quindi facciamo così ci servono esatto le scale di questo ok in realtà secondo me non troppe perché non è molto grande la struttura in realtà ovviamente ovviamente non è simile a quella della foto cioè è simile ma è diversa abbastanza da essere strana come ogni volta praticamente quindi quello ormai è funzionalità standard quindi non ci faccio neanche più caso allora qua facciamo così perfetto perfetto qui facciamo così si qua è molto in mezzo in realtà perché dovrei fare la casa più alta forse dovrei farla più alta no secondo me no invece possiamo fare una roba del genere rimuove ok allora qua va bene che scende giù madonna questi muri che fastidio sono fastidiosi i muri allora qua facciamo così perché facciamo così qua no no qua facciamo così qua scusami ok ok io ti direi così va bene ok questo lato quindi direi che per me va bene e il lato qua sopra invece qua lo facciamo diverso perché ci colleghiamo tipo a questi pilastri secondo me facciamo una cosa del genere eh no però io non lo voglio fare così scusami aspetta cioè si va bene ma non lo voglio fare esattamente così voglio farlo come l'immagine che è che ripeto con le robe dell'immagine sono sempre molto carine quelle che poi realizzo io sono me però ok qua teoricamente si fa così tac ok e adesso qua poi si scende al contrario quindi si fa così si fa così mi hanno finito anche i blocchi bene mi fa piacere questa cosa facciamo altre scale tac 8 non so se sono sufficienti ma ci proviamo ok no non sono sicuramente sufficienti ma fa niente ah beh qua in realtà possiamo fare così ok e ripeto qua io farei una roba diversa di questo tipo io farei proprio una roba del genere che qua qua non è così come nella costruzione ma io la farei lo stesso perché di si io farei delle slab e uscirei dritto per dritto qua proprio farei una roba tipo del genere qua via io farei una roba del genere non so se non so se voi siete semi d'accordo o meno ma secondo me non è troppo male oddio oddio bello non è ma tipo una cosa del genere cosa ne pensate? non mi piace sono d'accordo con voi nemmeno a me piace e se facciamo una roba del genere invece cosa che si può anche fare e se tipo qua facciamo così proprio già è già così è meglio già così secondo me è meglio che sali qua ah qua piazziamo un po' piazziamo un po' di torce scusami al momento che non vorrei mai che iniziassero a spawnare gente brutta ok quindi si tipo qua secondo me non è male ah non sono troppo convinto questo l'avete sicuramente notato però però va bene ok stairs le abbiamo ne abbiamo altre adesso perfetto possiamo fare anche questa parte facciamo così sì perfetto non è quello che volevo fare ma va bene ok e dobbiamo fare anche quelle invertite in realtà quindi di sicuro non ci bastano vabbè non è non è un problema ok facciamo così tac il mondo esterno è pieno di mob comunque brutti eh io ve lo dico ok quindi qua poi semplicemente quello che andiamo a fare è questa cosa la cosa classica esatto ok quindi ci servono altre di queste che non ne abbiamo quindi bisogna non so quante ne servono però secondo me io ne farei due due cose così esatto tipo 8 secondo me potrebbero anche bastare vediamo qua l'hai già fatto qua l'hai già fatto ok facciamolo anche fuori di qua qua l'hai già fatto qui l'hai già fatto qua l'hai già fatto tac tac perfetto quindi qua ci siamo e in teoria quello che io andrei a fare adesso a parte che questa zona qua ripeto non c'è non c'è in realtà lì però quello che andrei a fare io è così li copriamo in questo modo e mi servono delle stairs delle stairs madonna questo albero qua è bruttissimo ok tra l'altro poi ci serve anche il tuff per collegare questa parte ma questa in realtà la vediamo poi ah ci servono un po' di scale in realtà per fare il tettino e in teoria basta a regola dovremmo aver completato perché se io qua adesso faccio tutta sta roba qui tra l'altro ne servono molto di più ma ma vabbè ne servono molte molte di più di scale ah tra l'altro qua bisogna anche fare aspettate bisogna anche fare così perché esternamente devo bisogna ovviamente far vedere che è chiuso quindi esternamente ci deve essere la parte interna diciamo così ah poi ecco dovrei fare anche la parte dentro sapete che forse siamo però no no ce ne mancano 4 secondo me si ce ne mancano 4 4 più quelle interne in realtà quindi ce ne mancano di più di 4 secondo me 4 8 secondo me così dovrebbero essere perfette però ovviamente non lo so salta qua tac 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 ok voglio mettere una torcina qua mettere una torcina mettiamo si mettere una torcina giusto per sicurezza qua sono solo scale quindi non possono spawnare mi sembra mangiamo facciamo facciamo una mangiatina e scendiamo tac 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 ok ok creiamo anche la finestrella magica ok facciamo anche una porta fatta di di spruzza in realtà ok beh sapete che cosa possiamo fare in realtà facciamo una roba del genere tipo così esatto cioè una roba una roba del genere ok metterei qua ovviamente un letto tipo dei bar lì in giro una roba del genere questo ovviamente lo togliamo adesso ok qua in realtà è già posto così che brutto rumore c'è ok c'è stato un brutto rumore di non so cosa sicuramente era aerobrine però non l'ho visto ok qua facciamo così così sembra sembra ok qua farei una roba del genere non molto bella ma va bene ok quindi va bene ok ah e qua adesso esatto bisognerebbe fare una roba allora quindi campfire ok che si fa con un sacco di blocchi in realtà si fa con un sacco di roba e non so quanti ce ne servono di più di 6 di sicuro cioè dipende in realtà quanto vogliamo farla distante dipende da noi in realtà vi facciamola facciamola almeno 12 poi poi vediamo ok ok perché qui in teoria ah ha smesso di piovere ah che bello ok qui in teoria dovrebbe essere esatto una roba del genere no no posso però posso sintacciarlo vero dimmi di si posso sintacciarlo ok come faccio a spegnere lo che non mi ricordo ah con l'acqua esatto una roba del genere esatto che sembra che abbia sta cosa quindi quindi esatto quindi no no ok sta costruzione vabbè fortunatamente c'è sapete che possiamo posso nel dubbio visto che non so se posso effettivamente poi rimuoverlo non bruciarti ok visto che non so se poi posso spostarlo una volta spento evito di spegnerlo prima perché potrei sì qualche lestofante mi ha aperto la porta cioè qualche lestofante sappiamo già ok ok ma in teoria può anche essere più lunga secondo me facciamola anche più lunga tra l'altro io vorrei anche fare una roba vorrei farne altri due da mettere sotto ah però non si può ovviamente perché sono slab niente perché volevo mettere volevo mettere volevo due da metterne sotto ma ovviamente essendo slab non funziona la cosa ok facciamo la lunga così e basta che poi vediamo ok tac tac eh perfetto molto bene non si romperà mai è vero eh sì ce la dovremmo fare ok si è rotto molto bene abbiamo perso anche tutta la salute ma questo è un altro discorso ok allora piano piano facciamo così bam perfetto ok spegniamo tutto il fuoco qua perfetto che effettivamente cioè sa di strano visto che sembra che vada tutto a fuoco ma vabbè facciamo così facciamo un bel screen per l'episodio ma ovviamente c'è qualcosa di sbagliato ecco diciamo ok e qua sembra però vedete una cosa bellina in cui tipo vai sopra qui in modo simpatico ripeto carino ok ci serve adesso a parte che adesso bisogna piazzarlo a terra quindi ci serve ovviamente ci servono ovviamente altre slab per i luoghi da dover piazzare ecco tipo qua facciamo così qua facciamo così qua facciamo così e qua facciamo così perché bisogna ovviamente adesso poggiare la terra questa struttura quindi qua facciamo così qua è facilissimo perché si fa così esatto e qua un po' un po' meno facile vabbè in realtà un po' meno facile ok devo craftarne altre di quelli però villager siete sempre due purtroppo sono sempre due niente mi sa che quei due villager lì non non vogliono non vogliono ingrandire il villaggio mi sa che mi sa che non gli piace questa cosa vabbè niente dovremmo trovarne altri ok beh in realtà qui appunto non sono non sono tante robe perché qua basta mettere così quindi tac tac perfetto perfetto qui effettivamente qua non è molto bello sono d'accordo però effettivamente in realtà ah volendo possiamo fare anche una specie di una specie di una specie di provvediamo scusami se tipo facessi una specie ah però qua ovviamente sono svolazzanti ah però chi se ne frega o no cioè se tipo sto pensando no sto ovviamente nel mentre io sto pensando perché com'è non mi piace allora intanto vabbè facciamo la cosa che è da fare anche nell'immagine che è la struttura esterna al 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 cosetto lì che si fa così secondo l'immagine tac e ne voglio di più ok tac sono abbastanza 33 dovrebbero essere sufficienti ok la struttura qua in realtà è anche qua molto facile perché è semplicemente così semplicemente una roba del genere ok giusto si esatto qui ah ok qua ok qui è una cosa del genere ok e semplicemente ah beh è semplicemente facilissimo perché sono semplicemente dei bastoncini così perché sembra effettivamente che la reggano sembra effettivamente che la reggano ed è ogni ogni tre blocchi in realtà quindi qua sarebbe qui si tra l'altro si esatto deve essere lunghissima perché siamo e qua è abbastanza svolazzante in realtà la situazione madonna si siamo incastrati fermati che usciamo la musica quella è inquietante questa qua è ok andiamo si si questa qua è la musica proprio quella inquietante ok qua è così poi due spaziati uno e in realtà eh si qua ce ne sono molti di più ma vabbè il nostro è decisamente più corto ma anche perché purtroppo non possiamo farlo molto lungo perché se lo facciamo troppo lungo mi finisce mi finisce sull'altra isola quindi ci dobbiamo abbastanza accontentare in realtà ah qua quanti ce ne mancano? 4 secondo me quindi comunque vabbè ci sta secondo me non è malissimo ok tac 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 papapà pam eh 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 sì bam così bam eh non è serve un altro ovviamente che non posso fare facciamo così tac 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 sto ops sto craftando roba random vi dico la verità bene ok perfetto perfetto la splendido splendissima tac ok perfetto quindi qua effettivamente c'è la specie di pierce 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 no pierce pierce è mica porto secondo me non è pierce però vabbè ok quindi qua abbiamo sta roba ta 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 dove ti metti qua e peschi va bene ok ci servivano un po' ci servivano un po' di torce adesso cioè un po' di torce un po' di in realtà ehm le lanterne però va bene ahhh allora craftiamo anche questi in realtà tre barrel voglio esatto che sono simpatici ok facciamo tre barrel e li piazziamo qui li piazziamo qua tac tac no tac tac no posso metterlo in piedi ok sì perfetto così io li metterei bene ecco abbiamo sta struttura allora in realtà secondo me è quello che potrebbe essere perché qua effettivamente c'è brutto è brutto vederlo svolazzante si potrebbe fare potrei fare una roba del genere vediamo e tipo fare questi per fare una specie di fondamenta alla zona lì sotto proviamo non so tanto al massimo vabbè non li abbiamo sprecati li useremo per altre costruzioni però secondo me potrebbe adesso dico potrebbe ma non è assolutamente detto ah lasciamo uno al bordo di tutto quindi uno due uno due ok e tipo da qua noi farei così ah però ovviamente sembra svolazzante ovviamente vabbè vabbè però possiamo mettere tipo la slab così bah eh sì potremmo anche farlo allora qua non serve decisamente però sì stiamo a risparmio quei blocchi lì non serve però volendo possiamo sì fare sta cosa eh che secondo me non è malissimo cioè potrebbe essere carina la struttura nell'immagine non è proprio così però potrebbe essere carino ripeto quindi secondo me secondo me ci può stare allora qua facciamo così ok esatto quindi facciamo praticamente una zona centrale qua così sì esatto in cui poi praticamente i lati esterni qui li appoggiamo a terra così sì è svolazzante però se guardi sembra sia appoggiata effettivamente su qualcosa che secondo me non è ripeto non è troppo male cioè non è bellissima ma non è troppo male e il fatto che non sia troppo male va già bene ok qua semplicemente poi facciamo una roba del genere le zone esatto dove è esposta sostanzialmente le appoggiamo in questo modo così così sembra che sia appoggiata proprio sulla su una struttura proprio su una struttura secondo me non è non è malvagissimo questa non mi piace molto però per ora lo lasciamo così farei anche una piccola modifica tanto in realtà non ci interessa perché da fuori da fuori la vediamo però leggermente vabbè però non è un problema farei una roba del genere beh in realtà qua essendo esterno possiamo anche appoggiarlo cioè essendo che effettivamente qua è appoggiato possiamo anche appoggiare la terra perché vorrei fare il pavimento di questo di spruce perché preferisco sì non sprechiamo il materiale che tanto qua non serve non c'è niente da abbellire no eh ci siamo perfetti siamo incastonati dentro va bene ok un altro la porta l'ho lasciata aperta io vero sì ah questo lo togliamo questo lo togliamo porta porta ok perfetto io farei anche una semplicissima cesta ma le ceste posso fare tipo posso fare la cesta di spruce non penso no non mi sembra mi sa che sono solo un tipo di cesta esatto sì ok sono troppo sono troppo abituato alle mode signori sono troppo abituato alle mode non sono più capace a la roba è vanilla non so più cosa è vanilla e cosa sono mode quindi non benissimo diciamo bene ma non benissimo allora esatto qua secondo me ci può stare una roba del genere perché tanto in effetti cioè è appoggiato a terra quindi secondo me qui possiamo fare una roba del genere tipo ok esatto tipo una roba del genere che lasciam proprio il bordino così sembra che svolazzi ok secondo me ripeto ci sta proprio solo le parti in cui appoggia sulla terra esatto e poi qua davanti invece che effettivamente non c'è niente possiamo lasciare così bah secondo me secondo me è messo molto bene allora adesso vediamo se abbiamo il tuff da portare da portare qua si tanto sto villager qua scusami puoi cambiare casa cambia cambia casa in che casa vai in quella perfetto perfetto che almeno ha più senso che tu sia qua perché questa è una casa secondo me simpatica perché è tipo i fiori fuori quindi può essere che tu sia un apario ok ah craftiamo anche due due barchette secondo me che sono carine semplicemente sono carine queste hanno un po' di decorazione secondo me beh che potremmo anche anche la nostra in realtà potremmo lasciarla qua fuori però qua tipo facciamo una roba del genere facciamo tac così proprio si le metterei una anche di là giusto per proprio giusto per dare un po' di tocco magico proprio farei così tac così in modo simpatico non non verranno mai utilizzate ma simpatico quindi va bene così ok allora torniamo un momento in base perché voglio voglio fare le lanterne così le piazziamo e abbiamo completato la casa voglio anche prendere le 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 madonna sta porta che si apre da sola cioè non si apre da sola è lui è lui che la apre però da fastidio quindi qua in realtà ci siamo secondo me qua in realtà ci siamo messi estremamente bene ah mi servono un po' di lanterne se ne abbiamo già craftate perché potrebbe anche essere non ne abbiamo neanche una ok quindi come si chiamano come si chiamano la lanterna in inglese questa è un'ottima domanda iiii questa lanter ah lanter proprio ok ah si fa con no si fa con questo con le nages quindi costa un sacco però craftarle sono costose sono perché si fa con le nages ok facciamo così bam sei non basta non ne servono sfortunatamente di più e sapete che mi sa che sto pensando eh ma che sono uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci sono dieci sono come come abbiamo piazzato adesso sono dieci in realtà quindi ok così dovrebbe essere sufficiente craftiamone dieci possiamo craftarne anche undici che così la piazziamo anche dentro la casa che secondo me non è male ok ah possiamo fare anche una cosa carina fermi se abbiamo una ladder se non ce l'abbiamo no invece non ce l'abbiamo quindi niente lo faremo voglio mettere voglio mettere il quadro di un di un pesce così non perché serve ma perché secondo me è carino quindi piazziamo il quadro di un pesce così ripeto non perché serve ma perché perché no perché ci sta alla fine perché no non ho guardato se avevamo il tuff però il tuff dovrebbe essere qua fuori in realtà non mi sembra averlo portato dentro la base dovrebbe essere qui se ce l'abbiamo sembra non esserci quindi al momento al momento al momento sta zona lì rimane abbastanza esterna va bene la zona lì rimane esterna ok perfetto allora qua ci siamo in realtà ok allora qua facciamo così facciamo qua togliamo questa torcia che non mi piace neanche un po' e posso fare così vero? no ok la torcia qua possiamo anche recuperarla secondo me in qualche modo ah ci sono gli squid che rompono le scatole vabbè allora una la piazziamo qua sopra semplicemente eh sì bisogna anche bisogna riuscire facciamo così va che facciamo prima tac tac chi c'è là? è uno zombie quello là sì mi sa di sì ho visto gente muoversi nelle frasche ma mi sa che è uno zombie sì sì è uno zombie dai sì sì è ancora lì quindi è una zombie vabbè ok ah piazziamo tutte queste torce le togliamo via via questa la mettiamo qua via questa la mettiamo qua quella la mettiamo nell'angolino ok qua dentro ah ecco qua dentro volevo fare una una specie di qualcosa più che crafting table qua io farei la fornace tipo per cuocere il pesce una roba del genere facciamo riesci a darmi esatto facciamo così guardate cosa mi tocca fare per prendere la cobblast eh sì va bene ok facciamo la fornice perché non penso non penso ci sia non penso ci sia il blocco per ecco facciamo così così togliamo queste torce brutte non ho portato il vetro non ho portato il vetro ecco cosa non ho fatto vabbè lo porteremo non è non è il momento grave oh no piove ancora ok qua mettiamo queste torce cioè queste torce queste cosette qua così perfetto questa questa la possiamo toglierla e qua effettivamente abbiamo tutta questa zona qua simpaticissima bellina e simpatica vi dirò piacevole e simpatica ok qua possiamo salire e non ho portato neanche il letto vabbè vediamo effettivamente la casa perché perché in realtà poi è finita cioè nel senso che l'abbiamo fatta qui siete contenti che ci abbiamo messo due episodi per costruire una stupidissima casa di un del pescatore io sì io abbastanza perché perché gli altri gli altri progetti nuovi extra il che vi dicevo nello scorso episodio che sono più grandi metteremo ovviamente di più perché questa casa qua è facilissima e pura se ne ha messo una tonnellata di tempo allora eh si arriva al glass che ne prendiamo glass pane due ne prendiamo ok ah qua lasciamo giù tutto che tanto ormai non ci serve più nulla ok anche qua possiamo lasciare giù tutta questo qua la dirt possiamo lasciare nella cassa dirt qua mettiamo dentro il coal ah riesce a fare però magari tipo esatto come un po' di torce giusto per perché però qua fammi tenere in mano un po' di ah dove l'ho cao ok qua non lo vedevo ok tipo tipo una roba del genere esatto venti qua ok così almeno abbiamo un po' di materiale extra che qua tra l'altro ho 2000 picconi non so perché ma vabbè ah glass pane e il letto che secondo me è sempre qua può essere si letto ah letto che io dipingerei in questo caso vediamo di black black che mi ispira mi ispira il black e dovrei avere dovrei avere qualche drop no qua ink sack ok così giusto per black dye black bed così giusto per perché secondo me è carino il fatto che sia nero boh non so nero come potevamo farlo anche blu in realtà però nero nero così perché in realtà questo qua non è nero è un è un grigio molto scuro in realtà perché il nero in minecraft non è proprio nero è più ripeto un grigio scurissimo quindi secondo me secondo me ci può stare comunque il villaggio prende forma eh signore il villaggio pian piano pian piano diventa sempre più bellino tac tac perfetto beh qua abbiamo una nuova casa del pescatore quindi bene e perfetto bisogna solo fare il percorso che però purtroppo al momento non abbiamo tuff quindi non possiamo troppo farlo qui i villager vedo che non stanno procreando quindi male malissimo però vabbè ok ripeto nel prossimo episodio magari andiamo ad esportarli da dall'altra zona va bene dai mettiamoci qua tac mettiamoci qua sul ponticello là signori da giocicolo sono 10 è tutto vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al canale che non si è ancora fatto e noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio della stoneblock 3 che non è la stoneblock 3 signori sulla sulla fronte fog quindi signori noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti